Teresa, dammi la mano Teresa, un applauso ancora enorme a tre mostri sacri del folklore in Sardegna Tore Mazzau, Tore Chessa e Giovannino Marri Bene, e adesso andiamo a Nuoro con il gruppo folk Ortopene Questo gruppo quest'anno fa 50 anni, è nato nel 1973 Un grandissimo traguardo 63, ma commenti, si è tirati con 70, come si è assoluto di canno, sono venendo in nove Invece non sbaglio la data di nascita del tenore Saranno accompagnati da sui tenore Sozio Nugoresu E faranno un ballo antico Il gruppo folk Ortopene di Nuoro E sere tiqueria in rimar d'oro Visti i macchi di oltre Terra amata Isolantica, gresti, gosolata, mantienes alto sacro su decora Prenda di Chiano Pile tesoro 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 E te te dita E le gobe il sole De sattar E te te dita E le gobe il sole De sattar E te te dita Rocchino ma fellene E su rancore Leggo verso il de sattar E te te dita E mi intendo Supprime In su del clu De coroa Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.